Vorrei condividere con voi alcune cifre. Alla fine del 2021 la dimensione del mercato degli ETF a livello globale era di 10 mila miliardi di dollari, con un tasso di crescita del 24% nel 2021 rispetto al 2020. In Europa ha la dimensione di 1,5 mila miliardi di dollari, con un tasso di crescita del 20% nel 2021. Sono cifre enormi. Confermano un forte slancio del mercato degli ETF, ma soprattutto l'ISG ha avuto una crescita molto impressionante nel 2021, l'84% a livello globale, 87% per il mercato europeo. L'ISG è sicuramente il segmento in più rapida crescita dell'industria degli ETF e più in generale dell'industria del risparmio gestito. Ci aspettiamo che questo trend continui non solo per le esposizioni ISG in generale, ma anche per gli ISG tematici. Infatti, secondo gli analisti di Bloomberg, dovremmo raggiungere i mille miliardi di dollari di asset nel 2025, tre volte il patrimonio esistente oggi a livello globale. Quindi crediamo che sia una tendenza a lungo termine e infatti vediamo sempre più clienti aggiungere ETF e ISG alla loro asset allocation strategica. Vediamo interesse per due segmenti. Il primo, dedicato a chi vuole un'esposizione generale ad attivi ISG indicizzati a parametri allineati agli accordi di Parigi, i Paris Align Benchmark, e il secondo a chi è interessato agli ETF sostenibili focalizzati su temi come lo carbone, economia circolare, blue economy e questioni sociali. Questa domanda proviene da tutti i tipi di clienti, non solo dai distributori, ma anche dagli istituzionali. Come ho detto, vediamo sempre più clienti, consulenti e gestori che utilizzano ETF e ISG nella loro asset allocation strategica. Per questo, all'interno di BNP Paribaset Management, abbiamo creato un fondo multi-asset gestito attivamente utilizzando ETF e ISG per essere esposti ad alcuni megatrend come la transizione energetica, la transizione tecnologica al servizio dell'Hell Care e la Blue Economy. Quindi crediamo che l'investimento tematico porti nuove opportunità e nuove dimensioni all'approccio tradizionale. Questo vale per la diversificazione dei portafogli, nonché per investire in attivi ben posizionati. Per concludere, è possibile trarre profitto da questi cambiamenti radicali che stanno influenzando le economie e ridefinendo i modelli di business. L'83% dei nostri ETF e fondi indicizzati sono classificati come articolo 8 o 9 ai sensi della normativa SFDR. Per BNP Paribaset Management è un grande impegno a tutti i livelli. Siamo gli investitori sostenibili per un mondo che cambia. Questo impegno verso l'ISG non è né nuovo né opportunistico. BNP Paribaset Management è uno dei principali fornitori di ETF-ISG e fondi indicizzati ISG in Europa. Con più di 18 miliardi di euro di patrimonio a dicembre 2021, siamo nella top 5 dei fornitori europei di ETF-ISG. Abbiamo una lunga storia di ETF tematici ISG. Siamo stati pionieri nel 2008 con il lancio del primo ETF low carbon. Nel 2019 abbiamo creato il primo ETF sull'economia circolare. Nel 2020 abbiamo creato il primo ETF sulla Blue Economy e ne abbiamo anche molti altri. A dicembre abbiamo adeguato 18 ETF agli indici ISG e ai Paris Online Benchmark e con questi cambiamenti, l'83% della nostra gamma di indici è ora articolo 8 o articolo 9 e rappresentano, come ho detto, 18 miliardi di euro di attività. Il nostro impegno verso gli obiettivi ISG non è nuovo e il nostro team di gestori beneficia del supporto di un dipartimento di ricerca dedicato molto esperto. Il nostro Sustainability Center, come lo chiamiamo noi. Il centro non è solo un supporto per lo sviluppo delle capacità di gestione indicizzata ISG, ma come team di specialisti è anche responsabile a livello globale della nostra policy di voto e engagement, aspetto fondamentale per molti dei nostri clienti o potenziali clienti. Come B&P Paribaset Management votiamo in 2000 assemblee ogni anno con un tasso di opposizione che nel 2021 si è attestato intorno al 34-35%. Significa che un terzo dei nostri voti sono contrari. Questo riflette la nostra mission e l'alto livello che ci aspettiamo dalle aziende in cui investiamo. Quindi l'impegno ISG è sicuramente ciò che ci differenzia nel settore per gli altri dif Parts in DTF Industri.